Il clima sarà surreale ma il pallone continuerà a rotolare. Si giocherà regolarmente Foggia-Catania nonostante il club del presidente Nicola Canonico abbia provato a chiedere il rinvio della partita senza tuttavia riuscire nell'intento. Domenica pomeriggio allo Zaccheria la gara sarà dunque regolarmente disputata ma inevitabilmente condizionata da quella che sarà l'aria che si respirerà sugli spalti dove la commozione ed il ricordo si prenderanno la scena prima ancora della contesa tra le due squadre. Fervono iniziative da parte del club di Viaggio Berti che devolverà l'incasso ai familiari delle tre giovanissime vittime del tragico incidente stradale di domenica sera a Potenza e per l'occasione metterà in vendita italiani a prezzi abbondantemente popolari abolendo ogni ingresso di favore. Squadra intanto che dopo aver partecipato al completo alla veglia in cattedrale è tornata a lavorare per preparare l'impegno di domenica pomeriggio contro la formazione etnea da valutare le condizioni dei difensori Salines e Camigliano difficile il recupero di Ercolani per il resto dovrebbero essere tutti a disposizione del tecnico capuano.